È un pro piacenza carico a mille quello che sta preparando la sfida casalinga di domenica contro l'Olginatese per la terza giornata del campionato di Serie D di calcio. La sconfitta interna con l'Inveruno alla prima di campionato è stata spazzata via da due entusiasmanti rimonte in pochi giorni. Domenica al 3-2 a Gozzani in campionato, ieri il 2-1 a Mezzolara che ha valso il passaggio del turno in Coppa Italia con i rossoneri che sfideranno una nobile decaduta, l'Ancona. Mister Franzini loda i suoi per il carattere dimostrato ma invita ad avere maggiore attenzione per evitare di andare ancora sotto nel punteggio. Dovremmo cercare di invertire un po' questa tendenza, cercare possibilmente di andare anche in vantaggio e non sempre sotto però sicuramente questo è l'indice di carattere e anche di personalità anche nei ragazzi più giovani. La Ginatese è una squadra che da tantissimi anni fa questa categoria quindi sa come stare in questo campionato, sa quali sono le caratteristiche che ci vogliono come tutte le squadre dotate di buoni giocatori e quindi come al solito sarà una partita difficile e complicata. Noi punteremo sicuramente sulla nostra forza, sull'entusiasmo che si è creato in queste due partite ravvicinate che sicuramente hanno dato tanto morale sapendo che dobbiamo migliorare tanto soprattutto in alcune situazioni per non rischiare di trovarci sempre sotto che poi tutte le domeniche o tutte le volte diventa difficile recuperare. Il bomber Stefano Franchi elogia il carattere dei rossoneri e soprattutto il gruppo che si è venuto a creare. Sta andando tutto bene, stiamo pian piano integrando il gioco che vuole il mister, infatti soprattutto domenica nella seconda parte della partita è venuto fuori lo spirito della propiacenza e lo spirito di gruppo. Come si è visto nelle partite precedenti chi è entrato ha sempre fatto bene, sicuramente ci ha dato una mano anche sotto l'aspetto di gol perché dei cinque gol che abbiamo fatto tre sono venuti dalla panchina e questo sicuramente vuol dire che il gruppo c'è.